Questa è una visita per vedere quella che è la situazione all'interno di una casa circondariale. L'obiettivo è quello di essere garante dei detenuti. Questa è una battaglia che va avanti da molto, c'è stato anche uno sciopero della fame. Non si capisce ancora per quale ragione non si arrivi a questo nome. La legge istitutiva del garante è del 2011. Siamo nel 2016 e il garante non c'è mai stato. Ho detto anche che se il problema è il mio nome ne scelgano un altro, ma l'Abruzzo deve avere il suo garante perché fare queste visite significa verificare le condizioni di detenzione e quanto queste corrispondano al dettato costituzionale. Noi abbiamo un dato molto significativo, cioè chi sconta la pena in carcere, in queste strutture, ha una recidiva altissima, intorno al 70-80%. Mentre chi la sconta, per esempio, in carceri modello, come quello di Bollate, vede ridursi la recidiva al 10-15%. Quali sono le mancanze in questi carceri? Il problema è che non c'è dentro il carcere un percorso di rieducazione. Il problema è che spesso non c'è il lavoro, non c'è l'attività scolastica, culturale. Il problema è che spesso si toglie a molti di questi detenuti la possibilità di mantenere contatti stabili con la famiglia. Ieri, per esempio, ho visitato la casa di lavoro di Vasto. Lì, praticamente, c'è il titolo casa di lavoro, ma il lavoro non c'è. Lì c'è la possibilità di aprire una sartoria che darebbe lavoro a 40 persone e il tutto si è impigliato in storie burocratiche.